Awee amici e non di lo zodi e football ragazzi iscrivetevi forse all'unico gruppo insieme a PES Unile rimasto in Italia che continua a parlare non a difendere ma a parlare di PES di football di cazzi e mazzi visto che la gente se ne va a FIFA 1 a 1 anche i tuoi figliocci fedeli se ne vanno a FIFA admin di gruppi Facebook PES ce ne facciamo una ragione coerenza zero glielo ha detto in faccia mi sta sul cazzo sto fatto io che faccio pubblicizzo FIFA essendo un admin di un gruppo di PES una cosa che non esiste proprio al mondo che uno ci gioca che uno lo fa che uno si diverta a fare questo va bene ma poi che faccio io cioè secondo la vostra logica ognuno apporti i contenuti che vuole giusto giusto giustissimo saluto tutti i miei fedelissimi e qua già si è bloccato i fedelissimi e andiamo a vedere il nuovo aggiornamento saluto Stefano Ferrari DJ iscrivetevi al suo canale YouTube che fa abbastanza video inerenti ai football e fa parecchi dissing saluto Stefano Caparelli saluto il buon admin Stefano anche moderatore del mio Stefano Ferrari del mio gruppo Facebook ragazzi iscrivetevi dobbiamo essere numerosi lo so che è difficile ma ci dobbiamo credere iscrivetevi al gruppo no gruppo ma che cazzo saluto poi il dottor Antonino admin anche lui del mio gruppo saluto quella cio la morta di Lellinio 88 grandissimo figlio di Indrocchia saluto Marco Gianluca e non so che cazzo prende ragazzi ma sai che vi dico e vai con l'arsena tanto io le provo tutte saluto Demis che è passata a FIFA mi riferivo a lui all'inizio io gli sto facendo capire che per me non che gioca a FIFA fa una grande cazzata ma mi sta tremendamente a cazzo perché so cosa diceva cosa mi ha detto io sta cosa ragazzi che faccio io sputo FIFA do contro chi da pezzo è passata a FIFA con tutte le sicurezza che devo fare io poi ma non esiste proprio non esiste proprio non esiste proprio non esiste proprio non esiste a me non me ne frega un cazzo perché perché lo so io perché e vabbè va fammi stare zitto bocca a me stat cheat bocca a me dicevi un stat cheat cantante divise signore e signori vi ricordiamo che è possibile acquistare il programma dell'incontro uffa niente stavo leggendo dei messaggi ragazzi fammi stare zitto allora tattiche io vado sempre col contropiede veloce ragazzi io lo porterò sempre come diceva uno ne rimarrà uno e sono rimasto solo io dei vecchi youtuber poi ditemi che cazzo volete ragazzi ah vabbè portate tutti i FIFA fate la cosa migliore vediamo qua chi sta in tribù di chi conosco io nessuno allora Odegaard vai trequartista via qui questo ok mediano perfetto qui un bel cc forte non gioca più nessuno nelle cose metto lui poi qua mettiamo lui questo ok questo lo avviciniamo qua questo lo avviciniamo qua poi questo no ok sacca qua sp vai andiamo dai ragazzi dai iscrivetevi al gruppo facebook eh voglio voi volete continuare a seguire demis fatto ovviamente avrà tutti i suoi followers di fifa adesso però ovviamente io non posso fare una battaglia contro chi c'è ragà io amo fes odio con anni l'ho sempre detto insomma davvero una splendida serata un clima perfetto per giocare a calcio clima che si riflette anche sulla atmosfera sulle tribune i tifosi festanti e gioiosi allora aggiornamento di oggi io come sempre vedete almeno fino a quando posso cerco di cambiare di cambiare squadra di fare qualcosa di nuovo e niente andiamo avanti così ragazzi sarò l'unico stronzo che lo fa e vabbè ragazzi non me ne frega una beata amica io insieme a lei insieme a stefano insieme a qualche altro non vengo pagato da konami non che cazzo di farlo non me ne frega un cazzo non porterò neanche quando uscirà questa pseudo questo pseudo game ufl che tutti ne parlano ancora ma dove cazzo sta che non c'è nessun trailer di qualche imbecille cash ma lo sto aspettando come gioco lo sto aspettando ovviamente poi lo giudicherò vedendo qualcosa ci mancherebbe altro ma io non andrò mai contro la concorrenza ragazzi non esiste proprio ma non esiste proprio non esiste proprio non esiste non esiste non esiste non esiste non esiste non esiste dai dai su forza così la in mezzo lasciando poi la disposta l'allenatore sarà giusto così pure io voglio mai club mi sono incazzato forse perché ho meno tempo adesso per giocarci giù ma sicuramente mi dedico adesso molto di più alla famiglia rispetto a qualche mese fa avendo una bellissima creatura da pensare ragazzi da pensare voi non sapete io i sacrifici che faccio per registrare o per portare qualche contenuto ragazzi ammazzate che io prendo accende giù se un cazzo vedo che olio men continua a dire cazzate meno male che neanche li vedo leggo sui titoli già capisco le minchiate che va dicendo ma fa la cazzo da partita a me voleva vedere uno che giudica un gioco senza portare un cazzo poi uno che giudica un gioco senza portare un cazzo di di video di una partita niente ma vai a cagare vai ma vai a cagare va ottima cazzo basso qualsiasi di punizione possono far male 78 assolutamente vi dà un bel tiraggio che cazzo e cura gira la madonna mia gira ragazzi coerenza 0 a me non me ne frega una beata minchia coerenza 0 io non sono come anche i pro ex pro di pro ex pro di pro di pezzi dove cazzo volete andate andata giocatore volete io continuo ad allenarmi qua e portare qualche volta per 2021 ragazzi ci mancherebbe altro anzi poi andiamo a vedere se c'è qualche aggiornamento anche la raga c'è un video con doppia doppia cosa non me ne frega un cazzo ragazzi cercheranno di approfittare quando uscirà poi forse inizieremo a fare i botti noi quando uscirà raga purtroppo io sono fedele non me ne frega ma non me ne frega una beata minchia non esiste tifa raga abbiamo sempre criticato quella è una merda è una merda è una merda sai perché non ci gioca fifa adesso perché può crearsi le squadre questa verità madonna mia ho sbagliato fare quadrato e le due perché può crearsi le squadre così anche qua non puoi fare questa la verità perché se poi mi dite che gameplay è bello di fifa raga lo verrà meglio vomito in diretta con voi da ragazza piacere dai sono incazzato con qualcuno ecco ovvio che sempre con corano poi scone peschi la faccola e piacere un casco a fatcona io so fa tira giro anche questa ma la da siete ridicoli se non ci tenesse una persona non direste cose secondo voi non mi dispiace che una persona molto cara stretto a me nonostante quello che è successo nel mio ex gruppo facebook dove io me ne sono andato perché non mi piacevano non mi stavano piacendo più certe cose non mi dispiace che una persona molto cara me passa la concorrenza ovvia concorrenza più quando uscirà un'altra minchiata che non sappiamo dalla sua esistenza che ovviamente lì non la posso giudicare perché non lo conosco neanche io quindi ovvio che sono incazzato ovvio che mi dispiace ovvio ovvio e lui sa cosa voglio dire io lui sacco se ci siamo detti in passato in privato quindi ecco perché le cose mi danno al cazzo ea che faccio vada fa analogica a quei twitch me quei quel test di cazzo giocato delle nazionali se ne sono scappati a fifa e poi che faccio ma dai ma dai ma dai che sia chiaro pure io sono deluso incazzato con quella bagascia di konami quella bagascia di konami che a me non mi potevi mettere tipo my club e noi ci saremmo divertito lo stesso sta cacata dai no 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 lo fatti la g lo so che ci siamo divertiti lo stesso avremmo imparato di più a giocare con i tasti nuovi vedete io cerco di imparare sto cercando di imparare faccio un bel tiro giro d'acqua di shaka cos come si chiama cos le redone funzioni vabbè poi non voglio parlare di altri non sono siete spariti tutti youtuber di pes sono spariti tutti sono rimasti quattro gatti lecchini siamo rimasti noi siamo lecchina masi lecchini quando finirà tutto perché finirà tutto visto vi aspetterò abbraccio aperto io sono così gli so capato su anima e vabbè e non so volta bandiglie non so volta bandiglie è in vantaggio mentre si avvicina la pausa poi ovviamente ho fatto uno più una me sempre tre non è mai due gol ha potuto concludere la posizione ideale non è stato per niente lucido è un errore che a questi livelli di solito non si fa era lì a due passi dal bersaglio ma secondo secondo la vostra logica parliamo in generale è più di uno lo fa più di un amministratore moderatore è di pes pubblicizza fifa ma secondo voi è normale secondo voi cioè è normale secondo voi ma secondo voi è normale allora dico io chi di scusa abbandona tutto in generale parlo è una cosa che io non sono iscritto da con i gruppi facebook questo perché sono andrei litigare di come cazzi e c'è invece di cercare di dire incazzato tutto quello che vuoi dire porca poi porca troppo che fai non passa fifa gente poche se creati dei gruppi nuovi e poi passa fifa solo visibilità come perché a poco la loro come si bigliano cucur dai ma dai ma dai ma dai oppure non ti piace cancellati esci vai fuori non mi rompe i coglioni non mi rompe i coglioni non mi rompe i coglioni che questi primi 45 minuti siamo stati curiosi ma è stato coglioni o non ho fatto non si riuscita facoltà nessuno ancora o i tre donne sono la testimonianza quando è partita avrò fatto ancora ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto l'arsenal ha le mani sulla partita dopo 45 minuti intensi e perché non me lo contrasta più questo si è fermato di questa gara purtroppo stavola così raga il mercoledì farò i raggi e polmoni stanno ormai li ho fatti tutti vediamo come cazzo stanno da cazzo di tosse non pazzo e vabbè e poi ciò che si è più veloce ah vabbè e questo è un passaggio quantomeno discutibile che sia chiaro ancora qualcuno pensa male io a demis gli volevo li voglio sempre bene che sia chiaro perché se no non stare incazzato con lui capito lui dice che io devo essere incazzato con konami e vabbè non con konami c'è con konami che c'è poi ci ha trattato così ma ci mancherebbe altro però io non ce la faccio a vederlo su fifa ragazzi più forte di me ma non esiste però non esiste non esiste non ce la faccio perché mi oltre che mi fa schifo il gioco proprio mi fa schifo il gioco che devo fare io glielo spiegato io glielo ho detto qui non mi fate il film strani e che a me se me la foteva un cazzo di nessuno non dire certe cose non le dire in faccia cosa ho fatto anche in privato non pensate ovvio che andrò a sbirciarlo mi andrò a fare due risate ci manca il beato è mio figlio quello che faccio che faccio lo devo abbandonare no tanto lo so poi come andrà a finire io lo so io lo so e mi dirà un giorno cazzo avevi ragione ma non il fatto che passa a fifa peraltro raga peraltro lo so io come andrà a finire ha dimostrato grande reattività non si è lasciato sorprendere saca riceve il passaggio ci però può tentare la conclusione da quitta che mi ha dato già tre quattro di coglioni domani non penso di registrare vediamo l'altra competizione una bella squadra resta del fatto che qua avrò il 90 per cento di vittoria io anche di più 30 partite 23 perché nico non ci sono più players ovvio che l'ottanta per cento e l'ottanta per cento di non la pensa come me non so avete ragione forse sono il lecchino di conami di qualche altro anzi facciamo una corsa oggi sono il lecchino di alfonso robustelli facciamo così vai bicicletta l'admin di pesca il gruppo più numeroso d'italia non le altre cazzate con il minare che oltre a pesca pubblicizzano pure il mutante della della sorella ma vai a fare in culo dai ma ma mi ci scrive vediamo se funziona sul discorso se può capitalizzare attenzione ma lo faccio il gol da visto che lei non lo sa fare vogliono fa glielo dedico io al buone il ligno ragazzi iscrivetevi a gabriele pagina di lele ligno tanto traga troppe maglie in area ad oscurargli la visuale oltre che è un mostro a giocare ragazzi oltre un mostro quando si scherza si ride tutto con lele se si gioca seriamente con lele non si scherza la prossima mi fa merda punto mi fa a merda pure i pagliacci nazionali mi fanno di farla di che hanno giocato dal nazionale quelli giocato dalla nazionale lasciate a bici a meno io a meno la coerenza di dietro rito almeno non dice nulla ha fatto nulla è quella una bandana mai perso mai mi gioco le pa guarda che se un giorno possa affida pure lui mi taglio le palle veramente me le taglio me le taglio vado sotto casa suo che vicino casa mia Ettore Giannuzzi ragazzi ve lo dico Ettore Giannuzzi stiamo parlando vado sotto casa su me le taglio le palle lo dico qui davanti a tutti è volita no provano a partire in velocità vediamo funziona ragazzi vediamo facciamo il gol di chiama lele lele gol con la finta lele gol gol con la finta impara a farli questi gol con la finta lele tu non sei capace di farli i tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano almeno quelli che non se ne stanno già andando non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così dal vivo e sono tre e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori è praticamente immarcabile tripletta supermeritata errore qui pallone sprecato sceglie il pallone morbido ben fatto intervenuto quando c'era bisogno di lui vediamo no vediamo se riesco a fare un altro così vediamo oh ma è rigore eh lo stavo a fare buon lele lo stavo a fare vedete i tasti li sto imparando eh come no fammi rivedere il fall finta di tiro guardate hop e poi mi fa il fall grande opportunità adesso per aumentare ma non è l'unico l'acqua lo stesso è quello è uscito sentite la belle canzone apoletani sottofondo era madonna ma usa per sbagliare la bacchina da mamma non è riuscita a trovare il gol clamoroso in guarda ameligo sono rimasto come l'anno scorso dagli undici metri è veramente il colmo potrebbe un netto miglioramento comunque la capo le amici chi ha beh mettimi ma a natale ancora mi fanno un bel regalo metti mi sono anni che giuva ma metto in culo a tutto chi squad parassi che sono una fifa vuole la murta davanti conami sempre sempre e sempre dai basta dai oh e basta evita l'avversario con un dribbling elegante 93 passaggio sulla destra passaggio fantastico spazio per il tiro oh dai vediamo questi punti passiamo a peso 2021 sbloccata domani si fa altro vediamo se riusciamo andiamo a vedere la posta come è composta c'è da cosa è composta ok andiamo qui allora 500 gp e 10.000 gp beh ragazzi ci vediamo fra un po' arrivo subito